Ragazzi vi do il benvenuto sul mio canale, è mezzanotte passata, sono veramente stanco, ho appena chiuso una live su Twitch E' successa una cosa, una cosa importante ed è per questo che appunto ho deciso di fare questo video Allora praticamente stavo girando su Youtube, voi come sapete mi vengono a cercare nelle partite mentre sono in live per uccidermi e fare cose così no E ho trovato un video interessante su Youtube in cui vengono dette delle cose magari giuste, infatti andiamo a rispondere insieme, che ne dite? Eh ho visto, ho sentito gli audio che avete mandato sul gruppo, in che mi sta venendo voglia di prendermi BF1 oppure a me per rompere le palle a quello Capito perché devi venire a prendermi Cacola che io l'avevo già incontrato e mi aveva scritto se avevo una vita sociale perché ho fatto tipo 70 e passa 0 su Rotterdam col carro e non so quante volte l'ho ucciso lui Allora stop un secondo, onestamente non mi ricordo, credo di avergli scritto ma se giocare anche al di fuori dei veicoli non posso esserne sicuro quindi vi lascio col dubbio Non lo so onestamente, non mi sembra di avergli scritto una cosa del genere, vi ripeto se non sbaglio gli avevo detto ma se giocare anche senza i veicoli è una domanda non mi sembra ci sia molto da prendersela Tu mi dici sì o mi dici no, è fine, ve l'ho detto rimango col dubbio non lo so però continuiamo a sentire Sì ma questo qua se lo troviamo in giro è veramente da spaccargli il culo E a me? Cioè nel senso, e cosa vuoi dimostrare con questo? Che sei più forte? E sti cazzi? Non mi paga nessuno per essere un pro player Ok a questo punto c'è il commento di Mike che dice Mezza community italiana contro, ha ha ha, DSM, che emozioni signori, ha 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 Io non sono né DSM, io gioco e basta Non sono in nessun clan, nessun gruppo, gioco tranquillamente quindi Mezza community italiana contro, vabbè siete haters, giustamente siete contro, non è che c'è molto da fare Siete invidiosi magari perché col canale sto crescendo, anche se con molta calma in qualche modo sto crescendo Sto cercando anche di trattenermi con gli insulti soprattutto nei video, se magari ne scappa qualcuno Al massimo censuro, però direi che io almeno sto provando a fare la mia parte Mamma mia, i Dism, i Dism, madoro Dice DSM comunque, cioè non sono né DSM però so come si pronuncia, magari informati prima Goldo proprio, meglio così, meglio così Se ci facciamo conoscere così è tanta roba perché poi rispondiamo nelle pubbliche Se ci facciamo conoscere così è meglio, cioè praticamente tu vuoi crescere diventando un pagliaccio Un imbecille, un idiota, non lo so eh, non sono insulti, sto solo dicendo cosa secondo me vuoi dimostrare Non ha senso quello che stai dicendo secondo me Li vediamo quittare, poi li seguiamo nei server Cioè questa è la community ragazzi, questa è la community Sentite, vi vengo a prendere nei server e vi faccio quittare Cioè tu stai dicendo che praticamente tu mi vieni a cercare di proposito Zio, ma ti svegli cazzo Adesso io non so quanti anni abbia Dalla voce non mi sembra proprio adulto Magari alla mia età o qualcosa di meno Ok ci scrive anche un altro commento Ovviamente vedrete anche il nome di questo tizio Che tra l'altro ragazzi era un mio iscritto eh Mi supportava Non so come dirlo, cioè nel senso era un mio iscritto Ci teneva, cioè Sì diciamo che ci teneva, mi dava dei consigli Anche da tanto eh, mi era iscritto al mio canale da tanto Mi dava dei consigli su Battlefield 3 Di non giocare con queste persone Che avevo avuto un disguido con il clan Haunter, una roba del genere Ci sono rimasto onestamente molto molto male Comunque ci scrive E poi pensano che gli LND siano un clan Ah, sì Alfa di DSM ha detto che ci tirano sberle su Battlefield 1 Staremo a vedere Gioco meglio su Battlefield 1 che nel 5 Infanteria, specialmente sul jet Sarà la loro tomba Io non... Cioè... Io non riesco a spiegarvi questo commento Cosa devo dire? Gioco meglio su Battlefield 1 che nel 5 Infanteria Specialmente sul jet È buon per te Sarà la loro tomba È buon per te ancora Non ho capito cosa vuole da me Che belli sto solo che bene Calcola che quello lì È un mezzo fanboy di Master Doom Cosa? Cosa? Cioè scusate Io seguo Master Doom Condivido alcune cose che dice E alcune no E questo vuol dire essere Mezzo fanboy di Master Doom Ma che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Può dire delle cose giuste Dico Sì secondo me Master Doom è su questa cosa Ha ragione E su altre cose ha sbagliato Io non ho mai detto Di essere E anche se fossi poi Cioè Scusate mi interrompo E anche se fossi Qual è il tuo problema Ti dà fastidio? Non lo so Lui qualcuno è diventato Tu sei ancora con 1340 iscritti Facendo iscritto ricambi E non fai manco 50 visual E manco 2 like Che riesci a fare Cioè non lo so Boh E sta ad ascoltare tutto quello che dice Tutto quello che dice lui E legge Ah quindi tu sai quello che penso io Cioè secondo te Quello che dice Master Doom Per me è legge Le prove Non so neanche come spiegarlo Cioè Cosa stai dicendo? Sì ma lascia stare Che quel Dark Meek lì È tipo insultato Da tutta la community italiana Di gente che sa giocare È insultato Da tutta la community italiana Che sa giocare Siamo sempre appunto a capo E a me Cioè nel senso Siete voi che mi state odiando Cioè Riuscite a capirlo Siete voi Cioè io vado in live su Youtube E mi seguite Vado in live su Twitch E mi seguite Cioè Non ho capito dove vuoi andare a parare Non ho veramente capito Mezza community italiana mi odia Pazienza Me ne farò una ragione Non posso piacere a tutti L'unica cosa che gli invidio È che è riuscito a crescere Con un gioco morto su Youtube Eh Sono riuscito a crescere Con un gioco morto Perché Ho fatto di Battlefield V Un mio contenuto Sono riuscito a portarlo In maniera divertente Molti hanno criticato So sempre insultare So sempre insultare Ho ripetuto centomila volte Che sono Insulti goliardici Non so più in che lingua ripetertelo E poi se sono arrivato Dove sono arrivato Magari me lo sono meritato Dico Magari me lo sono meritato Ci ho messo tantissimo impegno Ho impiegato due anni Per raggiungere quasi mille iscritti Quindi Direi che Direi che ce la sto mettendo tutta Contenuto morto Non dipende da me Che Battlefield V È un contenuto morto Io ho sempre giocato a Battlefield Ho voluto supportare Battlefield V Nonostante avesse avuto Tutti i problemi che ha avuto Ma non capisco Dovevo andare a parare Alle persone piacevano i miei contenuti E sono cresciuto Facevo ridere Ero divertente durante il gameplay Diversamente da quello che fate voi Andate in giro Non so Ad arare le lobby Cioè Non so Vi divertite così Pensate veramente di riuscire a creare Un qualcosa Un canale Una fanbase In questo modo Io penso di no Credo Poi magari se ci riesci Buon per te Su Youtube Non su Twitch Su Youtube Su Youtube Non su Twitch Su Youtube Grazie Su Twitch ho iniziato 3-4 giorni fa Magari riuscirò ad andare avanti Anche l'anno Lo so Ce la metterò tutta Anche in questo caso Porterò i giochi Che mi piacciono E Se magari Mi fate la cortesia Anche di stare lontano Dalle mie live Che venite A gioinare Per uccidermi Questo è un atteggiamento Da bambini Da bambini Forti o no Cioè sti cazzi Siete dei bambini Ho fatto la live apposta LND Chissà se magari entra Qualche bimbo nutella Cioè non ho capito Aspetta eh Ci sto pensando Bimbo nutella Agli altri Tu entri nelle partite Degli altri Per fare kill Gli altri sono bimbo nutella Tu invece Sei uno stinco di santo Cioè non lo so Io non so quanti anni Ha questo tizio Non ne ho idea Perché se Se entra qualcuno E inizia A insultare Roba del genere Mi metto veramente A ridere Cioè Sì perché secondo te Io entro in una tua live A dirti Fai schifo Insultarti Cioè zio Ma a me cosa cazzo Me ne frega Siete voi che Siete venuti da me Su youtube Su twitch Sempre a stream Sniperare Con gli aerei Vedete dove sono Sganciate le bombe Fate le kill Cioè Non ho capito Peccato perché comunque Secondo me il talento c'è Potresti metterti A fare seriamente Dei video Dove magari Non ho stenti Tutte queste cose Che stai dimostrando Contro di me Cioè Non ho capito Peccato Hai talento Secondo me hai talento Devi imparare un po' Magari a commentare Ad essere divertente Metti insieme anche il fatto Di essere molto Ma molto più forti Di certe persone Come ad esempio me E secondo me Potresti fare La mia stessa strada Magari anche di più eh Io sono convinto E non ti sto prendendo per il culo Ecco Poi qui trovo altri commenti Sempre dello stesso tizio Stasera Tom Io e Vittorio In live di DarkMike97 Ovvero me Subbatte il fil d'uno Per rompergli il culo Rompergli Non rompergli Rompergli cosa vuol dire Il culo Ah ah Così spargiamo la voce Degli LND Ah 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 Ma quanti cazzo di anni avete? Questo mi ha detto pure Che lavora Quindi io mi immagino Boh Una persona Quanto meno Matura Invece no Ma che poi pensa pure Di essere forte Quello è il bello Ma calcola Che se Se entrasse in partita In questo momento Ci sarebbe Gliel'ho detto prima A Mike Che sto in live E mi è venuto a commentare Quello lì è un fanboy Di Master Doom No? Sento quello che dice Master Doom E legge Di fatti si vede Il livello di rincoglionimento Di rincoglionimento? Che ha detto? Lui è venuto a dirmi Di quello di Di ieri Dell'episodio di ieri E gli ho spiegato Che sto Dark Mick È un mezzo fanboy Di Master Doom Un'altra vote Ancora Ancora Ma che cazzo vuol dire Mezzo fanboy? Che poi io non ho scritto Commenti a nessuno Sono sempre loro Che vengono da me Ma continuiamo Continiamo Quindi tutto ciò che dice Tutto ciò che dice Quel coglione È legge Ah quindi hai detto A Master Doom Che è coglione Lui intanto È diventato Game Changers Scusate se è poco Ovviamente Sarete invidiosi Immagino È una brutta bestia L'invidia Sì difatti ho scritto Proprio Il titolo della live È LND Eh e quindi? Ma quello lì Io l'ho già trovato Una volta in pubblica Mi aveva scritto Avevo fatto Non so che punteggio Col caro Mi aveva bestemmiato Contro come un animale Ha già cambiato versione Cioè Ha già cambiato versione Mi aveva bestemmiato Contro come un animale Allora ripeto Non mi ricordo Cosa gli avevo scritto Sono convinto Oddio Più o meno Di avergli scritto Ma sai giocare Anche senza i veicoli A parte il fatto ragazzi Insultate su PSN Questo vi può segnalare E vi arriva il ban Sull'account Quindi mica Sono scemo Che insulto così Sì sì ma La gente non capisce Che Battlefield Ci sono anche i mezzi Sono tutti fissati Che Devono Se tu sai usare Un aereo Magari Sfondi le lobby Con i mezzi No tu sei scasso Ok Magari su questa cosa Può avere ragione Mi incazzo sempre Contro Quelli che giocano Con gli aerei Con i carri Va bene lo ammetto È una colpa È una colpa E lo ammetto Ha ragione Mi incazzo troppo Anti dark mic Risata da ebbete Scusa se te lo dico Ti immagini Entravano in live Contro In live In partita contro Ci prendevano Tanti di quegli schiaffi Cioè Non ho capito Secondo te Io vengo nelle tue partite Per dimor Ma anche se fossi più forte No Metti caso che ti uccido Cioè ma Cosa mi interessa Cosa mi interessa Io ho iniziato Con questo canale Non ho intenzione Di fare come fate voi No Gli spavagli Prendo a sberle E prendo a sberle lì Prendo a sberle là Cioè ma che cazzo me ne frega Ancora non avete capito Non avete capito Ma che poi pensa pure Di essere forte Quello è il bello Pensa di essere forte Allora mettiamo caso Che io lo penso veramente Quale sarebbe il problema E se non lo pensassi Quale sarebbe il tuo problema Sempre appunto lì Cioè Sempre appunto a capo siamo Non capisco Non riesco a capire Cosa voglio dire Ma calcola che se Se entrasse in partita In questo momento Ci sarebbe Bob Rambo Che Vabbè Vi risparmio la paternale Fa un elenco di persone forti Con i cari Con gli aerei E ritorniamo allo stesso punto E a me E a me Secondo te io Ho costruito quel poco Che sono riuscito a costruire In due anni Perché ero forte Hai detto tu che sono scarso Quindi magari ci sono riuscito In un altro modo Magari riuscivo A intrattenere Non credi Se entrasse pure Robby e Rasta Sarebbe la fine Cioè Non si muove E allora Pazienza Esco dalla partita E pazienza Cioè Non ho capito dove Dove vuole arrivare Non riesco a capire Cioè nel senso ragazzi Mettete caso Che voi state giocando Non avete appena comprato Il gioco E non siete esperti Trovate ovviamente Un server Con persone molto forti contro Voi avete appena iniziato Siete Siete scarsi E' normale che una volta Che subite 10 kg uscite E cosa c'è di male Non ho capito Mi succede che magari Decido di uscire Da una partita Perché sto giocando male Ma lo dico Non ho problemi Io non sono pro di nulla Non sono Non hai capito Basta Costa lui Poi 5 volte Mi hanno ucciso Sto rintardato di merda Vedete Poi lo dico io In un video Magari capita che lo dico A un italiano Me lo becco Me lo becco già sotto Nei commenti Lui invece lo dice E va bene Capito Questa è l'ipocrisia Sto morendo a nastro Per quelli fermi Con le mitragliatrici Io per questo Ho smesso di giocare Fanteria Su Battlefield Vedete Poi mi lamento io Dei camper E ovviamente Mi vengono a scrivere Ti lamenti sempre Dici sempre le stesse cose Però Anche loro si lamentano Di queste cose Rasta 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 A proposito Rasta Tu che sei bravo Su gran turismo Su Sto dark Mick Fa gran turismo Pure Cioè ragazzi Ma ci rendiamo conto Ci rendiamo conto Questi vivono Per Per me vivono Praticamente Cioè Lo scopo Della loro vita Non è Che ne so Avere successo Non so Non mi viene altrimenti Pensare alla propria vita Questi pensano a me Oh Ma sai che fa Anche i video Su gran turismo Stati sentendo ragazzi Che Che grado di bassezza È assurdo Ah tra l'altro Siamo a un'ora e quindici Di live Su due ore e ventuno Sono ancora Al centro della discussione Minca mi odi così tanto Allora eh Fa anche le live Lui su gran turismo Che ragazzi Ma siete proprio Degli stalker eh Ma Ma perché Ma perché Mi vien da ridere Non lo so Perché boh Se tu scrivi su youtube Dark Mick 97 Dovrebbe essere Lo trovi Alla La granata Di Bad Company 2 In teoria Scusami Sono sempre al centro Di tuoi argomenti Non sai neanche il mio nome È abbastanza grave sta cosa Mica veramente L'ammazzate mentalmente Mi dispiace ma A buttarmi giù Non ce la fai zio Visto che sono sempre Al centro Dei vostri discorsi Mi sa che quelli che rosicate Siete voi eh Siete voi Quelli che avete problemi Di inferiorità Mica io eh Lol Getwrecked proprio Quello è un classico ormai Purtroppo non so a cosa si riferisce Perché I suoi colleghi Non hanno attivato l'opzione Per condividere l'audio Quindi non so cosa gli abbia detto In questo caso No aspetta che Vado a vedere Vado a vedere Sull'iscrizione a quel canale Così Appena Appena fa la live Mi arriva la notifica E Mollo qualsiasi cosa Stia facendo E vengo a rompergli il cazzo C'è Ve l'ho detto Ripeto Questi vivono per me ragazzi Questi vivono Cioè io non sono nessuno Mi rendete conto Avessi tipo un milione di iscritti Che ne so Faccio qualche torneo Su fortnite Con soldi in palio Uno dice Oh apro la sua live E Lo vado a uccidere Cioè ma Zio Ma sei fuori A un certo punto della live Spunta il commento di Mike In conclusione Su Battlefield 3 Due account bannati Perché Gni 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 Non posso shottare col jet No 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 E su metro Non vogliamo gente che usa Kronux Ok boomer Del tipo Sbattiti la testa sul muro Cioè ragazzi Ma giocate per divertimento Veramente Cioè nel senso Lo dico per voi Siete tristi così eh Però Ce la potete fare secondo me In conclusione ragazzi Veramente Non so cosa frulla in testa A queste persone Questi pensano a me Si alzano la mattina Oh Mi scrivo al suo canale Che Così lo uccido durante una partita Eh va bene Se non ho voglia di continuare la partita Esco Cioè Non è che c'è un contratto Con sto scritto Guarda Non puoi uscire dalle partite Devi subire 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 Se mi gira il cazzo Esco dalla partita Semplicemente Questi praticamente vogliono crescere Facendosi odiare Non è magari più semplice Crescere facendo la persona normale Perché comunque Le qualità ci sono Manca un po' la maturità Sia tua Che Quella dei tuoi colleghi Ragazzi Per questo video è tutto E Nulla Speriamo che non vengano di nuovo Nelle live Perché Non so più cosa fare ragazzi Sono loro che Fanno di tutto Per continuare Se mi vogliono sfruttare Per Per crescere Ma secondo me non ha senso Perché comunque Crescere Facendosi odiare Secondo me non ha senso Secondo me È meglio piuttosto impegnarsi E crescere Riuscendo a intrattenere Poi magari Vedo che se giocare Anche bene Ti seguiranno Anche per quello Ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti